buongiorno a tutti e bentornati in questo nostro nuovo video vi presentiamo una bilancia vintage una bilancia antica era fabbricata dalla fabbrica prodotti chimici dottor vittorio sacco a milano e serviva a misurare il peso dell'acqua presente nel burro secondo il metodo gerber qui vediamo la bilancia montata con tutti i suoi pezzi è uno strumento vintage antico grazie per l'attenzione continuate a vedere il video presso il nostro canale abbiamo tanti video dedicati a divulgazione scientifica all'ottica alle scienze naturali alla microscopia e a tante altre cose belle se volete potete anche iscrivervi al nostro canale youtube grazie ancora e vi aspettiamo per i prossimi nostri video a presto grazie a tutti 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 grazie a tutti